Sarà ufficialmente inaugurata il prossimo 9 settembre la nuova scuola primaria intitolata a Piero Angela Agattico Veruno. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 15.30. L'edificio si trova in via Roma 35. Al taglio del nastro parteciperanno il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin, in videoconferenza, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.